Io vorrei che tutti gli spettatori avessero avuto la possibilità di partecipare, di vivere il clima di Terra Madre. L'incontro di 7000 contadini, pescatori, artigiani, nomadi che arrivano da 150 paesi del mondo, che rappresentano oltre 1800 comunità, è un'esperienza straordinaria, esaltante, perché in quel momento, in quella situazione non conta più la lingua, non conta più il colore della pelle, ma conta il fatto che queste persone, queste donne, questi uomini che vivono del lavoro della Terra, che sono fortemente legate al loro territorio, esprimono un grado di dignità elevatissimo, anche se arrivano molti di questi da dei paesi poverissimi. Ciao! Grazie a tutti. Grazie a tutti.